Assisi! Il Papa? Stefano! De Martino! Vi ho iscritti alle gare di ballo e voi vincerete! Forse non è un caso. E se Erasmo fosse mio figlio? Eh, un po' le somiglia. Faccia il test. Emiliano è strano. Mi tradisce con Carolina! La dottoressa Giulietti uccide le traditrici. Una sola parola. Scappa! Dentro ci sono i profili di due famiglie che vorrebbero adottare Penny. Se non sono all'altezza di William e Kate, non se ne fa nulla, ok? Uno, due, tre, chioppa! In prima visione. For costanza. Che Dio ci aiuti. Giovedì.